E' stata un'emozione grandissima sia l'esordio in questo stadio che il gol che è arrivato, non potevo chiedere di più, abbiamo portato a casa tre punti al passaggio del turno che era fondamentale per noi e siamo soddisfatti perché la squadra ha raggiunto il risultato con tenacia, con voglia, senza rendersi mai e questo deve essere lo spirito fino alla fine del campionato. E' stato il primo a segnare il primo gol ufficiale della Ternana nella stagione 2016-2017 e si è arrivato da meno di una settimana, che Simone e Palombi dobbiamo aspettarci per le prossime partite? Sì, sono ovviamente contento del primo gol della stagione della Ternana e dovete aspettarvi un Simone che comunque ce la mette tutta in campo quando entra, lavora sodo e duro durante la settimana e niente, vedremo cosa dire al campionato. Senti, parlando del Pordenone, una squadra che era molto più anziana di voi, eppure alla fine l'esperienza forse sembrava ce l'avesse più la Ternana per come ha gestito anche nel secondo tempo supplementare. Sì, sapevamo comunque la squadra che incontravamo, una squadra tosta, che aveva un bel organico. Noi ovviamente eravamo tutti ragazzi giovani con tanto entusiasmo, ce l'abbiamo messo tutta fino alla fine e siamo contenti di questo passaggio del turno. Ma è un'emozione indescrivibile, i tifosi sono la nostra forza e comunque quando ho segnato è giusto festeggiare con loro e con la squadra, perché ovviamente tutte le domeniche ci vengono a sostenere e sentire il mio nome strillato più volte fa piacere e riempie il cuore di gioia.